Buongiorno, Koak. In apertura la notizia che Babbo Natale ha saltato il Natale. Non ci sono regali sotto l'albero! Siete stati molto cattivi e Babbo Natale è incavolato nero. Cosa? Anche quest'anno niente regali, eh? Ho deciso che ucciderò Babbo Natale. Credo sia giunto il momento di fargliela pagare. Tutti a terra, aspetti! Festeggiando a modo nostro con Christmas Domination. Questa domenica dalle 21. Solo su Fox Animation. Grazie a tutti!